Si riparte un altro circuito, questa volta è Ivan, il terribile Visosky, ai pezzi, sostenuto dal Fido Butch. Il Fido Butch si trova totalmente a suo agio in questo ambiente, ha già individuato anche tre tane di diversi animali, un tasso, una donnola. Ecco, e passiamo al secondo step, alla seconda stazione, che è fatta per allenare i quadricipiti, fondamentalmente, ma anche le spalle, i deltoidi. L'allenamento continua sotto l'occhio vigile del cane Butch, che è di fatto il nostro personal trainer, nonché il nostro motivatore. E passiamo alla terza stazione, terza stazione nella quale lavoriamo i pettorali. Bene, ricordiamo che abbiamo 30 secondi per recuperare tra una stazione e l'altra. Una rinfrescatina, veloce e di nuovo pronti. Mentre il ruscello fa da sottofondo ai nostri allenamenti, con questo suono, con questa melodia, che ci accarezza le orecchie. Ecco, anche la stazione è completata, e adesso non ci restano che gli addominali. E vai! Palestra, all'aria aperta, a costo zero. Non servono abbonamenti, non servono assicurazioni, visite mediche, rotture di cazzi, mazzi, burocrazia, inchiate. Basta avere una bella giornata, se c'è il sole è meglio, ma se piove ci alleniamo lo stesso, perché noi amiamo la vita outdoor. La vita all'aria aperta, perché siamo uomini, non siamo robot, siamo uomini e ci sentiamo realizzati e gratificati quando siamo in mezzo alla natura. La batteria sta andando in malora. Perchè non si fai? Perchè non si fai?